Nello scorso video abbiamo terminato tutte le proprietà utili per quanto riguarda i radicali Adesso ci occuperemo in questo video delle cosiddette equazioni irrazionali Nel prossimo video ci occuperemo invece delle disequazioni Allora quant'è che un'equazione si dice essere irrazionale? Nel momento in cui compare l'incognita all'interno di una o più radice Quindi compare un vero e proprio radicale dove il radicando è un'incognita Qui bisogna fare due distinzioni Radici di indice pari, radici di indice dispare Abbiamo ben capito che le radici di indice dispare non ci danno nessun problema Quelle che invece ci danno abbastanza problemi sono le radici di indice pari Cerchiamo adesso di capire il perché le radici pari ci danno dei problemi Allora vediamo il primo esempio di equazione irrazionale che possiamo incontrare Che è il più semplice Supponiamo di avere radice ennesima di f di x uguale a g di x Quindi abbiamo la nostra funzione che dipende da x sotto la radice uguale ad un'altra funzione Allora qui cosa possiamo fare? Cosa possiamo pensare di fare? Beh possiamo tranquillamente elevare tutto all'indice della radice Cioè fare in questo modo radice ennesima di f di x elevato ad n uguale a g di x elevato ad n In questo modo la radice sparisce e quindi ci riconduciamo ad una equazione banale f di x uguale a g di x elevato ad n Ora però qual è il problema? Che se n è dispare non succede nulla di particolare Perché praticamente facciamo questo procedimento e non dobbiamo fare nient'altro Se invece l'indice è pari sorgono dei problemi Perché? Allora facciamo questo ragionamento insieme Quando abbiamo una radice pari Il radicando di quella radice deve essere necessariamente maggiore o uguale di 0 Quindi la prima condizione a imporre è f di x maggiore o uguale di 0 Quindi questa è la condizione di esistenza Però non basta perché? Perché la radice ennesima quando l'indice è pari Ci restituisce un risultato che è sicuramente maggiore o uguale di 0 Quindi che significa? Significa che quello che c'è a destra Cioè la nostra funzione g di x Deve essere anche essa necessariamente maggiore o uguale di 0 Perché se g di x è minore di 0 Allora arriviamo ad un assurdo Perché a sinistra abbiamo qualcosa di maggiore o uguale di 0 Sicuramente A destra abbiamo qualcosa di minore di 0 E non arriviamo ad un'uguaglianza Quindi che significa? Che g di x deve essere maggiore o uguale di 0 E queste sono le due condizioni da imporre Quindi in realtà quando risolviamo un'equazione irrazionale E compare una radice con indice pari Allora dobbiamo impostare questo tipo di sistema Ovviamente questa è una strada abbastanza antipatica Perché? Perché se compaiono più radici Allora dobbiamo impostare queste condizioni per ogni radicando Quindi capite bene che è un procedimento abbastanza noioso Esiste però un metodo Che ci permette di deviare la risoluzione di questo sistema Cosa vuol dire? Vuol dire che con questo metodo che adesso andrò a dire Non è necessario risolvere questo sistema Qual è questo metodo? Beh partite direttamente con la risoluzione Troverete un tot numero di soluzioni Queste soluzioni le andate a sostituire all'equazione di partenza Se vi viene un'identità Allora quella soluzione la potete accettare Se non vi viene un'identità Quella soluzione non la potete accettare Ok vediamo subito un esempio Ovviamente non vi farò vedere delle equazioni con indici dispari Perché da un punto di vista didattico sono una perdita di tempo Perché? Perché basta elevare tutto ad n e avete già finito La cosa importante è capire come si svolgono quelle di indice pari Allora esempio 1 Supponiamo di avere radice quadrata di x più 1 Uguale a che cosa? Uguale facciamo a x meno 2 Ok ora dobbiamo impostare in teoria il nostro sistema Adesso vi farò vedere come si risolve il tutto impostando il sistema E poi vi farò vedere come si risolve invece senza impostare il sistema Vi farò vedere che verrà la stessa cosa Allora il sistema quale? Abbiamo il radicando x più 1 maggiore o uguale a 0 E poi abbiamo x meno 2 maggiore o uguale a 0 Questo cosa implica? Implica x maggiore o uguale a meno 1 E questo implica x maggiore o uguale di 2 Ora mettiamole a disegnino Qui abbiamo meno 1 E qui abbiamo 2 Dobbiamo vedere dove il sistema è verificato Allora qui è verificato a destra di meno 1 Qui invece a destra di 2 Ora dove è verificato in entrambi i casi? Ovviamente qui La domanda è il 2 va inserito oppure no? Ovviamente si perché sostituiamo il 2 alla prima equazione Alla prima disequazione Questa ci fornisce una disequazione valida Cioè 2 più 1 che fa 3 che è maggiore o uguale a 0 Quindi che significa? Significa che la nostra disequazione Il nostro sistema è verificato per x maggiore o uguale a 2 Quindi se noi troviamo delle soluzioni che sono minori di 2 Allora quelle soluzioni non le possiamo accettare Ok adesso possiamo procedere alla risoluzione vera e propria Allora qui abbiamo una radice quadrata Quindi per togliere questa radice dobbiamo elevare tutto al quadrato Quindi x più 1 uguale a che cosa? x meno 2 al quadrato Ora dobbiamo svolgere questo quadrato di binomio Quindi x più 1 uguale a che cosa? x al quadrato Meno 4x più 4 Allora portiamo tutto a destra E quindi abbiamo x al quadrato Meno 4x Meno x Più 4 Meno 1 Uguale a 0 Questa è un'equazione di secondo grado Quindi abbiamo x al quadrato Meno 5x Più 3 Uguale a 0 Allora delta Uguale a b al quadrato Quindi 25 Meno 4a per c Cioè Meno 12 Questo ci fornisce come risultato il valore 13 Ok adesso cosa dobbiamo fare? x uguale a meno b Quindi 5 più o meno Radice quadrata di 13 Fratto 2 Questo ci restituisce ovviamente Due valori Allora x con 1 E x con 2 Allora x con 1 A quanto è uguale? Beh abbiamo 5 Meno radice quadrata di 13 Fratto 2 Mentre all'altro abbiamo 5 Più radice quadrata di 13 Fratto 2 Ora radice quadrata di 13 Fa circa 3,6 Quindi 5 Meno 3,6 diviso 2 E poi abbiamo 5 Più 3 Virgola 6 Diviso 2 Adesso devo prendere una calcolatrice E verificare quanto ci viene Questo risultato Ovviamente io l'esercizio l'ho inventato Quindi non c'è venuta Una radice perfetta Però poco male Allora cosa dobbiamo fare? Allora dobbiamo fare 5 Meno 3,6 Che fa 1,4 Diviso 2 Ci viene 0,7 Quindi 0,7 è la prima Mentre la seconda è 5 più 3,6 Fa 8,6 Diviso 2 Ci viene 4,3 Ora la domanda è Queste due soluzioni Possono essere accettate entrambe? Ovviamente no Perché? Perché la prima soluzione È minore di 2 Quindi questa soluzione Non si può accettare Mentre questa Sì Quindi l'unica soluzione È x con 2 Pari a 4,3 Ora Invece di risolvere Questo sistema Bastava andare a sostituire Qui Perché? Perché ovviamente Se noi andiamo a sostituire Qui sopra Otteniamo un assurdo Infatti se sostituiamo 0,7 A destra abbiamo Un numero negativo Ma un numero negativo Non può essere ugual A un numero positivo Quindi ovviamente Arriviamo ad una cosa Impossibile Ok Vediamo Adesso Un esempio 2 Anzi Invece di vedere L'esempio 2 Passiamo direttamente Alla seconda casistica Dopodiché Ci vediamo Al prossimo video Perché ci sono altre casistiche Di equazioni Irrazionali Allora Supponiamo di avere Radice ennesima Di f di x Uguale a Radice ennesima Di g di x Allora In questo caso Abbiamo l'uguaglianza Tra due radicali Dove all'interno Abbiamo delle funzioni Dipendenti da x E L'indice di queste radici È uguale Ovviamente Anche qui Conviene Vedere il caso Di indice pari Perché il caso Di indice dispari È quasi banale Allora In questo caso Quali sono le condizioni Da imporre In teoria F di x Maggiore o uguale A zero E ovviamente G di x Maggiore o uguale A zero Però se vi secca Fare questo sistema Potete evitarlo Passare direttamente Alla risoluzione E fare che cosa? Beh Verificare Sostituendo le soluzioni Se arrivate Ad un'identità Se non arrivate Ad un'identità Quella soluzione Non la potete Accettare Allora vediamo Subito degli esempi Esempio 1 Il primo lo svolgiamo Facendo il sistema Mentre l'altro Salteremo Il sistema Supponiamo di avere Radice quadrata Di x Meno 4 Meno 4 uguale A radice quadrata Di 2x Più 1 Allora qui la risoluzione È banale Perché? Perché anche qui Bisogna elevare Ad n In questo caso È ancora più banale Perché arriveremo A f di x U uguale a g di x Quindi noi Eleveremo tutto al quadrato E quindi viene X meno 4 Uguale a 2x Più 1 Questo perché Gli indici Sono uguali Ora questa è un'equazione Di primo grado Banale E allora che cosa Dobbiamo fare? Portiamo tutto a destra E i numeri a sinistra Quindi abbiamo Meno 4 Meno 1 Uguale a che cosa? 2x Meno x E quindi abbiamo Meno 5 Uguale ad x Perché abbiamo 2x Meno x Che fa x Quindi la x È uguale a meno 5 La domanda è Questa soluzione È accettabile? Allora dobbiamo Risolvere il sistema Quindi x Meno 4 Maggioro o uguale A 0 2x Più 1 Maggioro o uguale A 0 Da questa ricaviamo x maggiore o uguale Di 4 Mentre da qui Che cosa ricaviamo? Beh x Maggiore o uguale Di Meno 1 Mezzo Ora la condizione x maggiore o uguale Di 4 Mangia Tra virgolette La condizione x maggiore o uguale Di meno 1 Mezzo Perché? Perché qui abbiamo Meno 1 Mezzo Qui abbiamo 4 E allora che cosa Abbiamo? La prima è verificata A destra di Meno 1 Mezzo Mentre la seconda A destra di 4 Ovviamente qui è il risultato Il 4 è incluso Perché è maggiore Di meno 1 Mezzo Quindi La soluzione x maggiore o uguale Di 4 La domanda è Meno 5 È maggiore o uguale Di 4? Ovviamente no Quindi che significa? Significa che questa Disequazione Non ha nessuna Soluzione Infatti Se voi andate a sostituire Il meno 5 Che cosa vi capita? Vi capita una cosa Abbastanza inquietante Cioè Meno 5 Meno 4 Fa meno 9 E qui già vi potete fermare Perché? Perché avete la radice quadrata Di meno 9 E questa cosa Non è possibile Ok Ora Che cosa dobbiamo fare adesso? Beh Facciamo un altro esercizio Esercizio 2 Dove però Non impostiamo il sistema Ma passiamo direttamente Alla sostituzione Delle soluzioni Allora 3 Che moltiplica Radice quadrata Di x Meno x al quadrato Uguale a 2 Radice quadrata Di x Meno 1 Allora Qui come al solito Visto che gli indici sono uguali Dobbiamo elevare tutto al quadrato Quindi Ovviamente Anche il coefficiente Viene elevato al quadrato Quindi 9 Che moltiplica x Meno x Al quadrato Uguale a 4 Che moltiplica x Meno 1 Allora Svolgiamo queste parentesi Abbiamo 9x Meno 9x Al quadrato Uguale a 4x Meno 4 Allora Portiamo tutto A destra Perché in questo caso Conviene Che cosa abbiamo 9x Al quadrato Meno 9x Più 4x Meno 4 Uguale a 0 Quindi che cosa abbiamo 9x Al quadrato Meno 5x Meno 4 Uguale a 0 Allora Questa è Un'equazione Di secondo grado Delta uguale A b al quadrato Quindi 25 Meno 4a per c Allora Qui devo prendere Necessariamente La calcolatrice Allora Intanto Il segno Viene positivo Perché abbiamo Meno per meno Che fa più Allora Dobbiamo fare 4x4x9 Ci viene 144 Allora 144 più 25 Ci viene Ovviamente 169 Allora Se non ricordo male 169 È la radice quadrata Di 13 Ok Quindi Che cosa facciamo adesso Calcoliamo le nostre x Allora x uguale a Meno b Quindi 5 Più o meno 13 Fratto 2a Quindi 2 per 9 Che fa 18 Questo ci tira fuori Ovviamente Due soluzioni Allora Quali sono queste due soluzioni? Beh Abbiamo 5 più 13 Che fa 18 Diviso 18 Che fa 1 Poi abbiamo 5 Meno 13 Che fa Meno 8 Se non ho fatto male I calcoli Sì Meno 8 Diviso 18 Dividiamo tutto per 2 E abbiamo meno 4 Diviso 9 Quindi meno 4 noni Ok Adesso cosa dobbiamo fare Senza impostare il sistema Verifichiamo se Queste due soluzioni Sono accettabili Come facciamo Prendiamo una 1 E la sostituiamo All'interno Della disequazione di partenza La proviamo con 1 Se sostituiamo 1 Che cosa abbiamo? 3 Che moltiplica Radice quadrata di 1 Meno 1 Uguale a 2 Radice quadrata di 1 Meno 1 Allora Qui abbiamo 0 Uguale a 0 Quindi questa soluzione Si può accettare Allora Adesso cosa andiamo a fare? Stituiamo Meno 4 noni E che cosa abbiamo? Allora 3 Che moltiplica Radice quadrata di X Meno X al quadrato Quindi Meno 4 noni Meno X al quadrato Che sarebbe Semplicemente 16 Diviso 9 per 9 81 Uguale a Radice quadrata Di che cosa? Di Allora Qui c'è un 2 X meno 1 Quindi Meno 4 noni Meno 1 Allora Senza fare i calcoli Ci possiamo fermare Perché? Perché abbiamo La somma Algebrica Di due numeri negativi Che fornirà Un numero negativo Quindi questa Radice Non esiste E non esiste Neanche questa Perché anche qui È negativo Quindi che significa? Questa soluzione Non si può accettare Quindi l'unica Soluzione Di questa Equazione Razionale È questa Allora Nel prossimo video Andremo a vedere Cosa succede Quando abbiamo L'uguaglianza Tra due Radicali Però Questi due radicali Hanno indici diversi E poi vediamo Cosa succede Quando non abbiamo Solo due radicali Ma ne abbiamo Tre O comunque Ne abbiamo più di tre Con questo video Abbiamo terminato Come al solito Se vi è piaciuto Metti un mi piace Commenta Condividi E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Ciao